Musica Con i gettoni Halloween Vi ricordo ragazzi intanto di lasciare un like Un'iscrizione, una campanella Quando ragazzi è attivata la campanella Ragazzi con tutte le notifiche Così vi arriveranno la notifica Ogni giorno alle 14 quando esce il video Ogni giorno alle 20.30 quando facciamo live Non mancate questa serie in live Alle ore 20.30 Seguirmi su TikTok e su Discord Quindi sentiamo i link in descrizione Sesto link in descrizione per non tornare il mio server Discord Primo link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per comprare le mie t-shirt Personalizzate edXmax Vedremo chi sarà il quarto bomber della storia a comprarle Terzo link in descrizione per fare una piccola donazione Sotto tutto il top editor che è Niki con 164 euro per 65 centesimi donati E quarto link in descrizione per seguire sul sito Viola Mi chiamo edXmax Cliccate il link e vi seguite ragazzi Vi ricordo che faccio live lì Contemporaneamente con YouTube Ogni giorno alle 20.30 Dato questo ragazzi questo video uscirà come sempre alle ore 14 Ora ragazzi direi di fare Facciamo due giri fortunati con gettoni Halloween E poi a fine live ne facciamo altri ragazzi E' veramente un video leggendario Leggendario No 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 Non voglio fare questo qua Magari queste quattro qui le faremo prima o poi Diciamo due Tre Due e uno Vediamo un pochettino quante Che 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 personaggio troviamo Epica Va bene Va bene Ok Ok Forse ci siamo a sbloccarla Anche qui E vediamo la seconda Poi la ragazza Nel momento fino al fine del video Perché alla fine del video ne faremo altre due Epica ancora Potrei sbloccarla questa qui Ragazzi siamo messi molto bene Non è bruttissima Sono contento Sono molto contento Mica male Ragazzi Mica male Possiamo fare Ragazzi vi faccio pure Una cosa Gettone buffo Ok ragazzi ho finito la pubblicità Vediamo un pochettino Cosa troviamo Gettone buffo No 40 no dai 60 dai meglio di 40 Non buonissimo eh Però sicuramente meglio di 40 Dai E facciamo un altro Allora vediamo un pochettino cosa troviamo Adesso Vediamo un po' Dai 40 no 40 no dai Abbiamo trovato i 100 in totale Ma cos'è sta cosa Non proprio bene Dai facciamo il giro fortunato gratuito Ricordo ragazzi che a fine video Andremo a Fare altri due giri fortunati Gettone allumin Più un giro fortunato gratuito Sì vabbè dai Cos'è sta roba Oggi proprio sfortuna ragazzi Totale 5 gem Ma dai Ma dai Non è possibile A fine video andremo a fare Questo giro fortunato Con il video Che guarderò io E poi anche Due giri fortunati di questi Poi Però prima Andremo a fare una bella partitona Su valanga Puffosa Il nuovo evento Che a me Non è che mi piace così tanto Però Sono gusti Regalo Facciamo comunque Perché è l'unico modo Per prendere i gettoni puff Raga quindi Lo facciamo comunque Non ci possiamo fare niente Tra l'altro Breve uscirà anche un video In cui Utilizzerò I gettoni puff Quindi ragazzi Rimanete Sintonizzati Ok Ragazzi non mancate Questa sera In live Alle ore 20 e 30 Che come sempre Ci spacchiamo di divertimento E non mancate Mi raccomando Vediamo quando Inizia la partita Ok ragazzi Dopo 100 anni Finalmente è arrivata Se sarà la partita Allora Vai Allora Passiamo nel chilling Allora 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 Qua basta Passare sul lato Qui passiamo Sulla macchina Qui arriva una macchina Quindi possiamo stare Tranquillamente Le bombe ragazzi Non mi piacciono Per niente Le bombe A me non piacciono Per niente Però Ovviamente Ragazzi Sono gusti A me le bombe In questa mappa Guido Comporano veramente Le scatole Già di stare attento Alle macchine E poi ci sono pure Le bombe A cui devi stare attento Ragazzi Se la mappa Diventa impossible Ok Io ci sono Che c'era quello Che mi ha fatto Saltare Ok Va bene ragazzi Molto molto bene Nel chilling Proprio Nel chilling Ok Va bene Qua saltiamo qui Ci ha portato Un po' troppo avanti Sta macchina Macchina qui Molto bene Molto bene Questa macchina Possiamo prenderla Tranquillamente Ok Abbiamo preso Quella roba Che ci fa saltare Ok No salta Salta Ok E niente Ho sbagliato Perdo una vita Perdo una vita Sicuramente Sì ragazzi L'ho perso Ho perso una vita Però vabbè ragazzi Dai Ne mancano tre Eliminate Ci abbiamo ancora Tre vite Ne perdo un'altra Ok No ragazzi Sì dai ragazzi Ho quattro vite Manca una persona Eliminata Spero di non essere io Spero di non essere io Infatti no Avevo ancora quattro vite Quindi dovrebbe essere Veramente molto bene Molto bene ragazzi Adesso ci peghiamo Al secondo round Speriamo di riuscire Almeno arrivare in finale Dai Poi se vinciamo O no Chi se ne frega Però almeno in finale Spero di arrivare Adesso uscirà Lo shower Poi in finale Lockdash Come sempre Speriamo Ragazzi È da mezz'ora Che sono qui Aspettare la mappa Ma quanto ci metti Oh Cioè sei Istanbul Riprenditi Speriamo di riprenditi Oh ragazzi Dopo un anno e mezzo Finalmente Ro shower Mamma mia ragazzi Dai Speriamo di riuscire Ad arrivare Almeno all'ultimo round Speriamo di riuscire Ad arrivare All'ultimo round Se non avete visto Il video in cui Prendo il pugno Ragazzi Andatelo a vedere Perché è veramente Un video Leggendario Ragazzi Dovete vederlo tutti Perché ragazzi Se vi perdete Quel video lì Siete degli scarsun Ragazzi È veramente un video Leggendario No No Mi ha ucciso lui Non volevo fare Lo io il pugno Che pay to win Air pay to win Ragazzi Non se fai Ragazzi Per colpa di quel pay to win Non riusciamo A arrivare In finale Però va bene ragazzi Se andiamo a fare Giri fortuna Sapevo che arrivava La pubblicità L'osca Ho messo in pausa Il video Mamma mia Che leggendario Che sono Oh Forse ci siamo A prenderci Questi punti pass Sì 50 punti Molto bene Oh Un'altra missione Mica male 300 Eh ma appunto Eh non Il biglietto Non ce lo facciamo Beh lo sblochiamo Abbiamo qualcosa Nel pass Da prendere Certo Abbiamo qualcosa Nel pass Da prendere Questa emot Bellissima Bu Ci sta un voto Ci sta C'è una bellissima Però Ci sta E un bel biglietto Premium per il torneo D'oro Mi fa mente di leggendario Vabbè Niente di che Vabbè Ok abbiamo capito Molto bene ragazzi Andiamo a fare Andiamo su Negozio E come promesso Ragazzi Andiamo a fare Questo giro fortunato Gratuito Non trovo pubblicità Ok ragazzi Comunque questo Questo video qua È per dei giri fortunati Mi stiamo facendo un voto Vediamo un po' Cosa troviamo Magari una leggendaria Una rara Almeno 5 gemme Mamma mia Veramente oggi Sfortuna Vediamo se riusciamo a trovare Qualcosa buona Se riusciamo a sbloccare Quella Epica lì Nei giri di Halloween Mica male Ne facciamo altre due Come promesso Poi ragazzi Rimarranno 300 punti Halloween Getto ogni Halloween Che spenderemo Più avanti In prossimi video Non vi faccio Spoilere Ok Legendario Che non si troveremo mai Va bene Secondo Una bella epica Quella epica Almeno la sblocco No Sta leggendario qua Che non sbloccherò mai All'inizio C'è una data di fortuna Ma qui Un po' meno Sono uscito La leggendaria Che non sbloccheremo mai Va bene Ragazzi Dai A presto Ragazzi Ragazzi Uscite Un video In cui Utilizzerò I punti Puffo Per prendervi Questi Frammenti Qua E Queste moto Qui Però vabbè Per ora Il video è finito Ragazzi Lasciate un like Un'inscrizione Nella campanella Condividete il video Tutti i nostri amici Seguitemi sui talk Su discord Quinto C'è un link In descrizione Sesto link In descrizione Per entrare In mio server Discord Primo link In descrizione Per abbonarvi Secondo link In descrizione Per comprarli I miei t-shirt Personalizzati di Xmax Vedremo chi sarà Il quarto della storia Comprarli Sesto link In descrizione Per fare una piccola donazione Sotto Un'oportunità Che è Niki Con 164 euro E 65 centesimi Donati E quarto link In descrizione Per seguirli Sul sito Viola Mi chiamo Dxmax Che lo cliccate Mi seguite Non mancate Questa sera In live Allora 2030 Ciao